L'iter procedurale per la ripresa del dragaggio del porto canale è già partito, lo ha fatto sapere in una nota il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Scaduta la validità temporale delle analisi dei vecchi carotaggi, il comune di Pescara sta stipulando la convenzione con un laboratorio analisi per rieffettuare i campionamenti e verificare di nuovo, come previsto dalla normativa, la qualità dei fanghi e individuare, come da progetto, i sedimenti puliti che possono essere spostati nello stesso bacino portuale e quelli che invece dovremo necessariamente dragare e tirare fuori, sfruttando la coda di finanziamento di 100.000 euro, fondi regionali derivanti dagli 800.000 euro iniziali. Non appena avremo il dato in soli tre giorni di lavoro, come assicurato dall'ingegner Giovanna Brandelli, responsabile del progetto, avremo restituito piena agibilità all'imboccatura e alla canaletta di accesso al porto per i pescherecci. In questo modo il presidente Sospiri ha risposto alle preoccupazioni sollevate da un esponente della marineria circa le condizioni di insabbiamento del porto canale e le relative difficoltà per i pescherecci. I riflettori sono costantemente accesi sulla questione porto di Pescara, dove abbiamo in corso un cantiere da milioni di euro per la realizzazione del nuovo scalo, L'opera principe è destinata a cancellare il problema dell'insabbiamento dei fondali, ha ricordato Sospiri. Nel frattempo ci stiamo occupando in modo costante della sua manutenzione, per garantire che lo scalo sia sempre praticabile per la sicurezza dei natanti, a partire dalla nostra marineria. Negli ultimi due anni, ha concluso Sospiri, grazie al finanziamento di 800.000 euro erogato dalla regione Abruzzo, abbiamo assicurato costanti interventi di dragaggio, ovvero di spostamento dei sedimenti all'interno del corridoio portuale o la loro rimozione al fine di rendere sempre percorribile la canaletta dell'accesso mediano al porto, come previsto dal progetto.